Sono un concentrato! Capita la battuta? Uno spettacolo! Amici! Cucu! Wow! C'è la devo! Wow! Madonna! Alefattorie! Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Fortnite. Ho impostato questo bellissimo backpack che è veramente natalizio, con il macete che ricorda tantissimo della sto vase. Non farò rissa squadre perché rissa squadre veramente mi sta dando sui nervi. Semplicemente per il fatto che ormai io c'ho un marchio. Cioè a quanto pare ogni volta che arrivo in zona sicura incontro, va bene, una persona. Sembra che quella persona poi chiama, non lo so, con un microfono tutti gli altri, tutto il mondo, tutti i nemici. E quindi mi ritrovo accerchiato da tanti nemici e io non ci capisco niente. Poi ci sono le vot che i nemici non li vedo per niente. Li sento, ma non li vedo. Mi giro, mi rigiro, mi rigiro. Intorno, ma niente. Vabbè. Nelle partite in modalità singola. Tanto ci sono le cuffie che fanno... Potevo fare la prima partita a squadre, ma non lo so. Proviamo a fare questa partita in singolo. Magari ci va meglio, a differenza dell'altra volta che purtroppo arrivavamo nella top ten. Sì, ma... Nada, questo fa la ginnata. Ma questo che fa? Michael Jackson! Partiamo bene con questa puntata, veramente. Spettacolari. E cerchiamo di non morire per colpa della tempesta. Spero. Poi le ultime parole fanno... Comunque fortunatamente siamo addirittura in zona sicura. Comunque abbiamo delle buone armi. Sono quasi full legno. Potrebbe andare bene. Potrebbe. Ma certo, se sono c'ho un concentrato. C'ho un centrato. Sono un concentrato! Sono carico! Carichissimo! Sembra come se l'ho detto tipo in siciliano. Alle volte le farfalle, queste cose che svolazzano, ti confondono. Ti fanno pensare come se sei un giocatore che saltella qua e là come le caprette di Heidi. E invece no. Sono in zona sicura. Sono anche al centro della zona sicura. Ho azzoppato la testa. Prendiamo questo qua. Mi sento più sicuro col tac. Certo, se l'avessi trovato verde sarebbe stato molto meglio. Guardate, la modalità singolo è più tranquilla come modalità. Posizione in 21 e non ho incontrato nessuno. Sarà tranquilla, sì, ma... Io non ci terri ad andare verso quello sparo, eh. Io faccio benissimo i fatti miei, sì. E' bello che io sto gironzolando sempre sullo stesso punto, eh. Giro qua. Ah, sono caduto! Che cacchio è servito che ho fatto? No! Se è vero così non è normale, eh. Tutto sto tempo, tutti questi materiali alla fine non è servito a niente. Perché giustamente uno di fronte, uno all'altro. Quattro colpi in testa e sono morto. Poi, eppure che cado, eh. Uno spettacolo. Vabbè, sicuramente è proprio una giornata storta. Uno splendore. Sono stato sempre col pensiero. Secondo me io sto raccogliendo tutte ste robe. Tutti sti materiali, full legno. Ma poi morirò malamente. Anche in modo stupido. Uno può dirmi tutto quello che vuole. Però questa è sfiga. Stavo per coprirmi. Non mi ha dato il tempo di fare niente. Non troppo svengo dal divertimento. Quello davanti a me era pure un baccalà. Perché quello che faccio era solo costruire. Abbiamo pure ste bombe che muovi scatto a tutti. Dove state? Eh? Gli sgraziati. Dove state? No, non è possibile che questo non è morto. Mi vergogno. Sì, l'ho ucciso con le granate, madonna. Che c'è? Sfiga atroce? Beh, non sei l'unico. Madonna, ma pensa te. No! E vuoi morire, mannaggia a te. La faccio catina. Ma il carattere copre. Te ha molto spacchi di mille pezzi. Due uccisioni al parco pacifico. Mai successo. Ho avuto una fortuna enorme. Po' di danno gliel'ho fatto. Beccati ste bombe in testa. E va a cacchiare a te. E quante ne tieni? C'ho una paura tremenda. Aiuto. Quello c'ha pochissima vita. Ma è a root proprio. Fa un baccalà da xì. Raga, questo già mi ha stufato, eh. No, io me ne vado. Ciao. Cacchio, è vero. Eccolo lì. C'è tutti e due vent'anni. Ma cosa vuoi? Mannaggia, mamma, serie. L'ho colpita. No, non posso morire così. Dai, ho fatto il miracolo. Tre uccisioni. Dai, esci fuori, imbecille. Ho fregato due figli. Yes, ho paura. Raga, mi pare che era l'ultimo quello. Mio Dio, poche munizioni. Ma cosa ho fatto? Non sale. Non è che non c'è sale. È che non sale. Capita la battuta? No. Cavolini. Ma non è tanto lontana. Forse ce la potrei fare. Ce la devo fare. Questa è la potenza del Natale. Questo è il riscatto per prima che sono morto per colpa di quello lì. E probabilmente non ho manco avuto il tempo di vedere in giro perché magari potevano stare anche delle bende, delle cose. Un medikit. Uh, una cassa. Siamo? No. E allora va tutto bene. Uh, delle bende. Me le so chiamate. Conferment. Me le so chiamate le bende. Un pochettino troppo distante. Non mi ha dato niente sto baccalà. I baccalà sono buoni però. Sto facendo la pizza ragazzi. E ora via. Veloce. Cioè come va vuoi la pozza? Ma non lo so. Cioè hanno messo come ingrediente l'ananas. Cioè non doveva. Vabbè, che ne so. Concludiamo con una bella cagata. Con una partita in modalità a squadre. Una volta c'è c'è stata una squadra che mi ha dato delle soddisfazioni incredibili. Ma non sarà sempre così. C'è sempre Totoro al nostro fianco. Totoro. In questo caso sta di fronte a me. Comunque si va alle fattorie. Alle fattorie. No. Il nostro compagno è stato ammazzato da piccolo cucciolo. Maledetto. Ah. Da die. Certo che però è sempre così. Amici. Amici. Che tempo fa Meliniano. Io sono morto. Ciao. Buonanotte. Amici. Un aiutino. No. Ha disgraziato. Ma quegli altri due che stanno a fa' scusa. Vabbè abbandona la partita perché questi se la stanno camperando di brutto. Ma questo sta dormendo raga. Però non è una novità raga. Questo vedrete da me. Io ogni volta mi vedo in giro non c'è nessuno. Poi come abbasso la guardia oppure volto le spalle subito arriva uno. vabbè gli sembrano e non lo sarà mai. Vi presento un nostro caro amico. Chi è? Hola. Va bene l'ultima partita perché sennò qua sarà la quarta partita certo durata pochissimo ma non c'è niente da vedere. Non c'è niente da vedere? Non c'è niente da vedere? Ci ci ci. Va bene ragazzi dove ce ne andiamo? Alla di nuovo alle fattorie ma da un'altra parte vuoi proprio andare a fare la guerra che nessuno mi spari io me ne vado ciao ciao no vaffanio vieni no avevo solo un colpo stati bene mantinati forte maledetta te ma proprio a me devi sparare dai poi non ho avuto manco il tempo fallo fuori certo fallo fuori sali vabbè è stata una bella partita finché è durata va la canna da ben scavavanti non mi ammazzate video gioco di gammie no alle fattorie io chiudo le porte non c'ho niente non vedo niente c'ho una trappola aiuto c'ho una mitraglietta non c'ho una tarda non c'ho una tarda non c'ho una mornata non c'ho una tarda voce mhm ahhh ahhh non c'è c'h no raga non puoi capire Ma che scemo Sono un mastro geppetto No io posso benissimo rimanere qui Tanto tutti si ammazzano per colpa della Sull'unico vivo No se ne è andato un immo Venite pure Tanto c'è una mia trappola che magica Mi pare che se ne stanno andando C'è un batoncino questa Cucu No ho sbagliato Stavo per fare il fucile a pompa vi giuro Cioè ditemi se non sono mastro Trappole qui Mastro ciliegia Che sbattere uva Vabbè raga a parte mastro geppetto E mastro ciliegia che non so Come sono usciti fuori ma vabbè Volevo dire in realtà mastro Trappole Volevo dire ma non so sbagliato ho detto mastro geppetto Ma che cos'è la discoteca No mi voglio vedere tutto il replay Assolutamente Non lo so se si è sentito nel video ma Si è sentito tipo Allora questo Sono solo io Che facciamo ginnastica Allora qua metto la trappola Poi non mi sono neanche accorto Che sono morti tutti E quello si è fermato Quando avevo visto uno Mi sparavo Era rimasto con veramente pochissima vita Ah vabbè Quello era morto Perché era rimasto fermo Come un deficiente Va quello Che aveva paura Ha avuto paura Poi è morto come un deficiente Perché non si era ricordato Dalla trappola Io sto bello calmo Gironzola Cioè fermo Ma fra un po' Arriveranno gli altri No guarda un po' Ma che bello è E l'ho ucciso Ma guarda riesco a vedere tutte e due le cose Ma che cinematica è Solo da me potete vedere certe cose Allora Questo stava qui Veramente oggi ho fatto due partite Che sono state spettacolari Questo poi riesce a vedere la trappola Non so come Qua purtroppo stavo cercando di mettere Il fucile a pompa Ma sono morto Ma vabbè raga Questo era il replay Dell'ultima partita Che veramente è stata divertentissima Ma vai a c***are tu Ma un attimo Dico che per questa puntata Guarda lei non c'è È tutto Io spero che questa puntata vi sia piaciuta Se no Lei non salta più Spero che questa puntata vi sia piaciuta Se così è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non è ancora fatto Ma buonanotte Ma sì Ma buon Natale Ma buon Santo Stefano Ma che c***o ne sono Buono 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 no 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 no